Se anche tu sei un cittadino straniero e vuoi prendere parte alla vita pubblica della nostra città scegliere i rappresentanti della consulta dei popoli essere rappresentante in Consiglio Comunale partecipa ad uno degli incontri all'Auditorium Toscanini di Via Cuglia nelle date 7, 14, 15, 21 ottobre alle ore 17.30 partecipate agli incontri per essere rappresentati in Consiglio Comunale vi aspettiamo Grazie a tutti